il prossimo a scattare a staccare la macchina sbaglia gadoni prima del lancio e allo stacco lottano navacos e miracle bf più all'esterno e veloce anche nada massa miracle desiste prova ad accodarsi nada vasso navacos e sfila primi 200 metri in 13 7 nada massa in vantaggio navacos di rincalzo poi all'esterno miracle bf in corda messer smith all'argo nella scia di miracle bf milton dante che chiude allo steccato legislatore nemm poi otero caff nada completa ora i primi 600 metri ritmo molto brillante 45 poi navacos e miracle ancora messer smith e milton dante legislatore nemm otero caff oceano e cappa nervi dei reppi all'esterno gadoni in coda al gruppo e il primo chilometro i primi 800 in 59 7 sbaglia messer smith finendo squalificato mentre nada è sempre salda battistrada su navacos a questo punto miracle ha potuto parcheggiare in terza posizione alla corda prova a risalire intanto otero caff 1 e 15 scarso il primo chilometro otero guadagna posizioni a largo con nada al comando navacos di rincalzo su miracolo otero che avanza lo segue nero dei reppi a 400 dalla conclusione con tre quarti di milione 30 nada raggiunta da otero caff navacos appostato con allargo nero dei reppi mentre cede miracle bf otero all'attacco di nada poi nero sul quale avanza anche oceano e cappa di dentro ancora navacos passa in vantaggio otero caff inseguito da nero otero caff che viene a concludere netto vincitore davanti a nero dei reppi oceano e cappa e nada mass corsa a invito ed è arrivato preciso preciso l'invito 19 8 7 quindi quattro migliori ai primi quattro posti e nell'ordine dell'invito la vittoria per otero caff con lorenzo alessi il treni di gennero casillo i colori del signor giachino rosario vitanza